Nel cuore di Verona è già Natale, sono stati inaugurati sabato mattina i tradizionali mercatini che impreziosiscono la città con addobbi, luci, oggettistica a tema e le specialità culinarie che anticipano i sapori e i profumi delle nostre tavole. Sentiamo dai commercianti come è andato questo primo weekend di mercatini. Il primo weekend è andato bene, c'è stata gente nonostante il tempo, tanti turisti, poi c'era la maratona quindi sono passati, comunque gente ce n'è stata. Abbastanza persone, però non ho visto molti veronesi, forse perché è solo l'inizio di questi mercatini, ma sono arrivati tantissimi romani e milanesi, quella scusa della Verona Marathon. Siamo stati colpiti dal brutto tempo, però va bene, comunque c'è stata comunque nonostante il brutto tempo una buona affluenza.